buongiorno a tutti questo è il webinar dell'open week per il corso di studi tecniche di laboratorio biomedico laurea sanitaria della università di verona afferente alla scuola di medicina del nostro teneo veronese direi di lasciare subito la parola al riccardo rossi nostro studente e poi ovviamente ci sarà anche occasione di dare i nostri contributi tra gli altri panelist di questo webinar c'è la dottoressa maria carla tassi coordinatore dell'attività didattica e le tutor a dottoressa marinela bertolani a dottoressa maria romano ma avremo modo poi anche di presentarci singolarmente io sono la presidenza del corso di studi ma lascio subito la parola a riccardo rossi buongiorno a tutti sono allora innanzitutto presso l'area scienza della vita e salute dell'università degli studi di verona dall'anno accademico 2001 2002 è attivo il corso di studi triennale in tecniche di laboratorio biomedico che fa parte della classe 3 delle lauree delle professioni sanitarie tecniche il titolo conseguito a valore abilitante all'esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico chi è il tecnico di laboratorio biomedico è un operatore delle professioni sanitarie che svolge in autonomia professionale attività dirette alla prevenzione cura e salvaguardia della salute inoltre svolge le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona inoltre è responsabile delle esecuzioni delle analisi biomediche inoltre l'esecutore quindi materiale dell'analisi dei campioni biologici quali ad esempio sangue pezzo chirurgico urine spettorato versamenti o di campioni ambientali alimentari farmaci è addetto anche all'utilizzo manutenzione controllo di qualità delle varie strumentazioni di laboratorio ed è responsabile della relativa validazione tecnica allora per quanto riguarda l'attività di analisi biomedica i settori nell'ambito dei quali il tecnico di laboratorio biomedico è maggiormente coinvolto sono la biochimica clinica la microbiologia l'anatomia patologica l'immunomatologia e trasfusione e la trasfusionale inoltre può anche lavorare in settori quali patologia clinica immunologia la farmacologia e la tossicologia la biologia e la genetica la biologia molecolare la medicina del lavoro la neuropatologia e anche la medicina legale allora vista l'ampia competenza che il tecnico di laboratorio deve raggiungere possiamo dire che la sua preparazione è di tipo multidisciplinare infatti nel percorso formativo si devono raggiungere competenze professionali della singolare laboratoristica attraverso formazione teorica e la pratica del tirocinio tra i molti insegnamenti che si possono trovare ci possiamo ci possono essere ad esempio le scienze propedeutiche e le materie a cui si studierà saranno la fisica applicata le misure elettriche elettroniche la statistica medica la bioingegneria elettronica poi ci sono anche le scienze biomediche in cui fanno parte la fisiologia la biochimica la biologia applicata l'anatomia umana l'istologia e la genetica medica altri insegnamenti che si possono trovare sono le scienze tecniche di laboratorio biochimico quindi biochimica clinica e biologia molecolare patologia generale clinica microbiologia generale clinica scienze tecniche di medicina di laboratorio inoltre ci fanno parte anche le scienze cliniche quali l'oncologia medica la malattia dell'apparato cardiovascolare endocrinologia e le malattie del sangue per quanto riguarda il tirocinio è un sistema di opportunità per lo sviluppo professionale e gioca un ruolo fondamentale del processo formativo dello studente infatti l'esperienza diretta sul campo permette di integrare le conoscenze teoriche alla pratica laboratoristica i settori di laboratorio dove anche si possono fare vari tirocini comunque sono la biochimica clinica l'anatomia patologica quindi listopatologia e la citologia la microbiologia e la virologia l'immunomatologia e trasfusionale poi c'è anche l'urmo che il laboratorio universitario di ricerca medica inoltre c'è anche un progetto erasmus cioè la possibilità di esperienza formativa durante il corso di studi presso le università europee in portogallo in finlandia in estonia in bulgaria e il periodo trascorso all'estero viene comunque riconosciuto come attività formativa istituzionale inoltre dopo i tre anni si può eseguire un master di primo livello quale ad esempio il master di citopatologia presso l'università di roma il master in tecniche diagnostiche microbiologia a siena un management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie nel presso l'università di verona padova o presso la tor vargata di roma inoltre ci possono si possono fare anche lauree magistrali ad esempio a verona c'è la lauree magistrale in biotecnologie molecolari e mediche oppure presso la bicocca a milano si ha il corso di lauree magistrale in biotecnologie mediche a urbino si possono fare le lauree magistrali nell'ambito della biologia quindi biologia molecolare sanitaria e anche della nutrizione poi ci possono essere anche le lauree magistrali che fanno parte appartenenti alla professione sanitaria e tecniche in particolar modo a ferrara si ha la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche e a firenze la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali comunque ne esistono tante altre gli sbocchi professionali in particolar modo il tecnico di laboratorio biomedico può prestare la sua attività presso gli ospedali pubblici e privati per quanto riguarda l'ambito diagnostico presso le ulse quindi le aziende sanitarie locali cliniche ambulatori privati centri di ricerca ad esempio l'app twitter oppure industria di settore e perché bisogna scegliere questo corso perché ci sono vari motivi in particolar modo per passione per amore verso le scoperte la ricerca scientifica per essere inseriti in un ambiente dove la tecnologia è in costante sviluppo e si è costantemente stimolati all'apprendimento poi per sentirsi partecipi anche di un progetto collettivo sanitario che ha come obiettivo particolarmente sentito in questo momento storico la salute del cittadino e perché il tecnico di laboratorio biomedico può trovare un impiego in un'ampia varietà di settori ci sono se per qualsiasi informazione comunque ci sono dei riferimenti recapiti in cui abbiamo il coordinatore che la dottoressa maria carla tafi e qui sia avete come potete vedere sia la mail che il numero e poi ci sono anche i tutor di sede che sono la dottoressa marinella bertolani la dottoressa maria romano anche qui come potete vedere numero e mail grazie della grazie dell'attenzione e basta grazie riccardo rossi mi permetto di aggiungere alcuni commenti poi lascia la parola alle colleghe questa presentazione come avete potuto vedere diciamo ci sono dei punti fissi e i punti fissi sono la formazione in termini di conoscenze di competenze in ambito di tecniche di laboratorio che spaziano sia fornendo con materie di base sia con materie più applicative e questo è una particolarità di questo corso di studi in quanto permette di fornire sia quelle conoscenze che quelle competenze che si possono acquisire tramite l'esperienza con i tirocini in reali ambienti di lavoro quindi non solo in laboratori didattici dedicati solo agli studenti ma proprio all'interno dei reali spazi di lavoro in ambito sanitario dicevo questo è un corso di studi che permette una formazione che oserei dire unica rispetto agli altri corsi di laurea ovviamente senza togliere niente gli altri corsi di laurea e quindi non solo poi al termine del periodo dei tre anni abilita il laureato alla professione sanitaria in questo momento storico come ha sottolineato appunto da Rossi c'è una particolare necessità di questo tipo di professionalità ma permette anche se il neolaureato decidesse di proseguire con le lauree magistrali o addirittura con il terzo livello di formazione universitaria ovvero con il dottorato di ricerca permette quindi di poter proseguire avendo acquisito in questi tre anni quella formazione che renderà diciamo possibile l'accesso anche a settori disciplinari diversi e questo ne parla con particolare diciamo entusiasmo e passione avendo poi in questi anni anche prima di ricoprire il ruolo di presidente del corso di laurea aver ricoperto il ruolo di docente aver ospitato qui nei nostri laboratori studenti di questo corso di studi nel corso di tecniche del laboratorio biomedico che hanno seguito poi anche per corsi di ricerca e che oggi si trovano in varie università e si trovano a fare ricercatori e si trovano anche per esempio all'estero e molti di loro hanno appunto avviso sono appunto hanno proseguito il loro studio con il dottorato quindi di fatto è mi permette di definirlo come l'unico corso di studi che insegni che cos'è la quotidianità del laboratorio indipendentemente poi degli indirizzi che come abbiamo visto sono diversi ma mi fermo qui per un momento e lascio la parola alle colleghe io devo riattivare la dispiace ma non funzionano le cuffie mi sentite sì ti sentiamo volevo fare una precisazione perché forse non si è capito molto bene nell'esposizione che c'è la possibilità finito il triennio di poter proseguire su due diverse strade la prima prevede che si possa fare la laurea magistrale o iscrivendosi al corso di biologia o di biotecnologie una seconda opportunità e questo diciamo da più poi sbocchi per quanto riguarda il lavoro vero e proprio di tecnico di laboratorio in sia per quanto riguarda l'azienda sia per quanto riguarda l'università mentre l'altro sbocco è la possibilità di iscriversi a un corso di laurea specialistica della classe e questo da invece la possibilità di svolgere attività di coordinamento soprattutto nelle aziende oppure anche informazione e diciamo è più mirato a più materie di tipo organizzativo quindi un indirizzo maggiormente organizzativo e gestionale volete aggiungere qualcosa sì io sono maria romano il tutor che seguo il secondo e parte del terzo anno seguo il tirocinio soprattutto volevo anticipare che l'impegno del secondo anno è particolarmente diciamo sentito nel senso sia come lezioni ma soprattutto come tirocinio quindi è un corso di studi che diciamo non si addice a chi magari vuole fare in contemporanea anche qualche lavoretto a volte fa un po' fatica perché l'impegno è veramente significativo perché ci sono tante ore di tirocinio meno del terzo anno soprattutto parlo del secondo ma l'impegno è in diversi laboratori e quindi diciamo che è l'anno decisivo poi il terzo anno si segue invece le ore di tirocinio sono aumentate però diminuiscono poi diminuisce l'impegno didattico e il tirocinio viene fatto in unica sede che è scelta diciamo dallo studente che è quello in cui praticamente effettuerà la tesi quindi insomma il terzo anno diciamo che anche se ci sono più ore l'impegno comincia ad essere molto più leggero ecco rispetto al secondo anno questa è la mia esperienza perché negli ultimi anni ho seguito diciamo questa parte del tirocinio per quanto riguarda il tirocinio del primo anno passo alla mia collega la dottoressa Bertolani che vi parlerà appunto della prima parte buongiorno io sono Marinella Bertolani e mi sentite mi sentite mi senti prego prego che seguo il primo anno l'impegno per ciò che riguarda il tirocinio del primo anno è in un'unica area che è quella del laboratorio analisi e quindi della della chimica clinica noi abbiamo varie strutture convenzionate con l'università dove gli studenti faranno il loro percorso di tirocinio e quindi la loro esperienza alcune sono all'interno della regione veneto altre sono fuori regione perché abbiamo il trentino abbiamo la lombardia con mantova e quindi abbiamo varie possibilità dove i nostri studenti possono fare il loro il loro percorso di di tirocinio tutte le ore legate al primo anno che sono 350 come vi dicevo vengono svolte tutte in laboratorio analisi quindi questa è la caratteristica e la peculiarità per ciò che riguarda il primo anno accademico a differenza come diceva appunto la dottoressa romano che dal secondo invece ci sono più laboratori il primo anno si frequenta esclusivamente eh il laboratorio di patologia clinica e mi sembra di non dover dire nient'altro se vogliamo possiamo rispondere già a una delle prime domande che c'è stata posta che è ehm come ci si deve preparare per il test di ammissione se vuoi rispondere tu Maria Carla guarda c'è una domanda di Agata che ci dice salve volevo chiedere come come ci si deve presentare per il test di ammissione beh io credo che sia come qualsiasi test che ci si presenta per il test di medicina eh quindi con una buona base di preparazione per ciò che riguarda la chimica la la biologia e la fisica quindi le parti tecniche eh sono sono pregnanti in questo caso e quindi io penso che la preparazione sia di questo tipo non so se ci siano dei corsi appositi in università so che lo fanno per medicina ma eh non so se venga fatto anche per le professioni sanitarie nulla toglie che uno possa partecipare a quello di medicina e poi fare eh partecipare al al corso eh alla selezione per 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 le professioni sanitarie non ho capito eh penso che ci siano dei testi comunque eh dove ci sono delle simulazioni ecco a livello di preparazione si possono anche prendere dei testi penso che ci siano dei testi eh con i quiz appunto delle simulazioni per le professioni sanitarie uno può andare si può accedere anche ai corsi estivi che l'Ateneo organizza per il corso di medicina ma che valgono anche per le per le aree per le professioni sanitarie quindi per i corsi di studio in professioni sanitarie eh io volevo aggiungere un paio di commenti eh ma innanzitutto una cosa che non è stata detta vorrei rimarcare il corpo docente vede non solo docenti universitari di vari livelli da ricercatori a professori ma vede anche un apporto fondamentale di professionisti del sistema sanitario e di esperti nel campo insomma del senso generale delle tecniche di laboratorio biomedico da parte del mondo del lavoro e questo è un apporto estremamente importante inoltre il collegio docenti vede anche dei rappresentanti di quelle che sono eh le associazioni e gli ordini di categoria quindi eh l'attività di questo corso viene mh pianificata e svolta proprio anche in funzione di quelli che sono le richieste in questo momento ovviamente mutevoli del del mondo del lavoro e dell'occupazione negli ultimi anni e abbiamo stabilito anche rapporti con entità al di fuori della sanità come citava appunto Rossi come il centro ricerche Rebotech Aptit qui di Verona piuttosto che con l'istituto zooprofilattico e altre realtà volevo aggiungere anche un'altra cosa eh penso a una domanda che in questo periodo eh tutti si pongono è una domanda così molto emotiva e che mi sento di rispondere ovviamente per quello che eh è possibile in questo momento di situazione mutevole e sperando ovviamente tutti che l'emergenza pandemica si risolva il primo possibile se il corso di studi in qualche modo è eh in qualche modo eh un problema insomma dell'epidemia della pandemia in qualche modo è intralciato col corretto svolgimento del corso di studi. Da questo punto di vista all'Università di Verona compreso quindi anche il nostro corso in modo molto rapido è riuscito a venire incontro grazie a piattaforme tecnologiche avanzate alla alla questo problema e quindi con lezioni che si sono svolte in modalità telematica eh addirittura siamo riusciti anche a poter fare esami laurea e quindi diciamo nonostante tutto il lavoro va avanti. Ovviamente via via la situazione è mutevole a seconda della condizione eh cambieranno un po' i regolamenti e le modalità ma vi garantisco che eh la didattica e la qualità della didattica è sempre garantita e in particolar modo è anche garantito quello che è l'attività di tirocinio presso le varie eh sedi convenzionate. Da questo punto di vista chiedo alle colleghe se volete aggiungere qualche dettaglio su come eh l'attività di tirocinio si è potuta comunque svolgere durante questo anno duemila e venti eh diciamo senza problemi. Sì eh tranne che in un primo periodo iniziale eh dove eh ovviamente è stato bloccato tutto eh successivamente siamo riusciti comunque a riprendere velocemente la possibilità di effettuare il tirocinio e gli studenti ad esempio del terzo anno sono riusciti a completare tutte le ore eh gli altri eh abbiamo dovuto integrare con delle attività eh telematiche però eh in misura molto ridotta quindi sostanzialmente il corso eh di laurea di Verona non ha risentito eh in maniera eh preponderante di questo di questo blocco dovuto alla pandemia. Ecco quindi questo per garantirvi che le attività didattiche di tirocinio sono garantite. Scusate se posso aggiungere eh attualmente non c'è nessun blocco. dalla parte delle sedi esterne quindi attualmente eh stanno accettando in tutte le sedi i nostri studenti. Quindi a differenza magari di qualche altro corso che forse c'era qualche eh qualche blocco noi eh per fortuna in questo momento eh tutti i ragazzi eh stanno andando in tirocinio e quelli del primo anno che partiranno appunto lunedì prossimo eh sono tutti sono stati accettati tutti quindi tutti i tirocini sono attivi in questo momento eh quindi questo ci 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 dà la possibilità di non perdere di non perdere ore e di non dover poi organizzare magari i tirocini durante il periodo il periodo estivo. Ecco volevo aggiungere che per la sicurezza dei servizi degli studenti l'università effettua un tampone molecolare prima dell'ingresso quindi ecco c'è quest'ulteriore tutela anche perché entra in servizio. Certo. C'è una domanda di Anna Brunelli. Volete leggerla voi? La leggo io. Anna Brunelli chiede se non si passa con il test d'ingresso. Quali altri corsi permettono di conseguire degli esami che verrebbero accettati l'anno successivo qualora si riesca a entrare al TLB? Immagino che la domanda è quali corsi di laurea permetterebbero poi di rientrare a un secondo tentativo al corso dei tecnici per il laboratorio ovviamente. No, i corsi scientifici in generale hanno esami come fisica, chimica che sono gli esami di base. Questi vengono riconosciuti. Per esempio biotecnologie, poi potrebbe essere un corso che è qua a Verona. Questi esami servirebbero, prepararsi a sostenere questi esami, servono anche per poter l'anno dopo ritrovare i test e sicuramente magari riuscire a passarli, oltre che poi vengono sicuramente riconosciuti. Sono altre domande. Se si volesse continuare il percorso con una magistrale in biotecnologie, in quali settori si può proseguire? Quelli che abbiamo elencato precedentemente, perché già con la laurea triennale si può essere assunti in azienda ospedaliera con la laurea triennale in tecnici di laboratorio biomedico e eventualmente si può successivamente entrare anche nelle scuole di specializzazione, perché adesso biotecnologie... A questo proposito chiedo a Rossi per cortesia di condividere nuovamente lo schermo e far vedere quelle diapositive relative. Grazie Riccardo. Grazie Riccardo. Ecco. Ok. Allora, qui lauree magistrali. A Verona c'è la laurea magistrale. Lascio parlare a lei, professore. No, no, prego, prego, faccio a lei Rossi. Allora, a Verona, laurea magistrale, abbiamo la laurea magistrale in biotecnologie molecolari mediche, oppure presso la Bicocca a Milano abbiamo la laurea magistrale in biotecnologie mediche. Per quanto riguarda Urbino ci sono i settori di laurea magistrale dei settori in ambito della biologia, quindi biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione. Se no, ci sono le lauree magistrali appartenenti alle professioni sanitarie e tecniche. A Ferrara abbiamo la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie e tecniche diagnostiche. A Firenze la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie e tecniche assistenziali. Quello che volevo dirvi è che dovreste comunque ogni anno consultare i vari siti delle università perché vengono sempre aperte nuovi corsi e possono chiudere alcune che abbiamo magari elencato nella nostra diapositiva, possono invece essere soppresse. Per cui è una situazione fluida e ogni anno dovete consultare ovviamente le offerte formative dei vari Atenei. Mi sembra che ci sia un'altra domanda. Che chiede se il materiale didattico viene fornito dagli insegnanti. Se per materiale didattico si intende il materiale di studio, docenti, a seconda di quello che indicano nel loro programma, possono adottare dei libri di testo oppure possono rendere disponibili delle dispense di lezione o altri articoli, altro materiale di studio. E questo dipende da docente a docente. Se invece per materiale didattico la domanda non è chiarissima, si intende materiale relativo anche alla parte di laboratorio, no, è un materiale che viene messo a disposizione dalle sedie o dagli laboratori che ospitano lo studente. Poi se vogliamo rispondere alla domanda di Gianluca e anche di uno spettatore anonimo che sostanzialmente chiedono la stessa cosa legata agli sbocchi lavorativi. ne aveva parlato prima anche Riccardo, il nostro studente. Gli sbocchi lavorativi sono di varia natura perché possono essere tutte le aziende ospedaliere, quindi le aziende anche USL che sono sul territorio, laboratori privati e anche aziende private, ditte private come potrebbe essere l'Aptwit, oppure strutture come lo zoo profilatico che è comunque su base regionale e anche l'ARPA, altra agenzia sempre su base regionale. Quindi gli sbocchi effettivamente professionali sono vari, sono di varia natura. effettivamente poi adesso con la situazione del covid ancora di più c'è questa richiesta di questa figura professionale, forse per anni, ma va bene. Penso che possiamo con orgoglio dare il valore, la percentuale dei laureati occupati a un anno della laurea. Dottoressa Tassi. Questo è un momento d'oro per i tecnici di laboratorio perché abbiamo il 100% di occupazione, i nuovi laureati, i neolaureati sono stati tutti reclutati, anzi ho una continua richiesta non solo dal Veneto ma anche dal Trentino Alto Adige, dall'Emilia Romagna e anche dalla Fiuli Venezia Giulia, che mi chiedono di segnalare i nominativi di tecnici di laboratorio. Questo è legato ovviamente alla pandemia e questa situazione penso che perdurerà almeno per un altro paio di anni in questa richiesta massiccia. Comunque le percentuali di occupazione sono sempre state alte anche negli anni passati, anche prima dell'emergenza pandemica. Mi sembra che avevamo comunque un 75-78% prima della pandemia comunque di occuparsi a un anno dalla laurea. a un anno dalla laurea. Sì, penso di sì, sicuramente l'ospedale di Mantova penso che, anzi appena fatto un concorso adesso e ci avevano chiesto se avevamo disponibilità per alcuni studenti ma in realtà i nostri che si sono laureati a novembre hanno trovato tutti già lavoro e quindi penso di sì che a Mantova ci sia la possibilità. la struttura ospedaliera è una struttura sanitaria regionale quindi nulla impedisce che ci possa essere un posto di lavoro anche lì. Dopo ci sono delle ditte private quindi in realtà non mi viene in mente niente però noi facciamo anche i tirocini a Mantova quindi noi mandiamo i studenti in tirocini a Mantova tranquillamente quindi io penso proprio di sì. Ecco ricordiamoci che un tirocino ovviamente senza creare alcun impegno senza creare alcuna aspettativa è comunque un'occasione per farsi conoscere quindi non solo per le proprie capacità ma anche per le proprie capacità lavorative e di impegno motivazione ma anche caratteriale quindi il tirocini è un'occasione appunto per incominciare a capire com'è il mondo del lavoro ma anche conoscerlo ma anche farsi conoscere dal mondo del lavoro infatti spesso i nostri studenti sono stati richiesti appunto dalle sedi presso il quale avevano svolto il tirocino. Vedo che chiede Gianluca se il test è un test di ammissione a numero chiuso, sì, sono previsti di solito i posti disponibili sono 28 negli ultimi anni perlomeno sono stati 28 e questi posti sono stabiliti dalla Regione. Grazie. Il nostro studente Riccardo vuol fare qualche commento sulla sua esperienza? Gli aspetti positivi della sua esperienza? Allora, beh sì, innanzitutto comunque come diceva prima la professoressa Romano adesso che posso sono al terzo anno comunque il secondo anno è abbastanza tosto però comunque il bello di questo corso di laurea è che comunque fai tanta attività di tirocino e sì, comunque dall'altro lato hai un lato in cui dici devo studiare e ho anche il tirocino però comunque il tirocino serve perché come diceva il professor Chimulera comunque ti fai riconoscere ma inoltre sperimenti appena quello che studi e lo applichi quindi a una pratica ed è fondamentale secondo me quindi già dal primo anno ti puoi anche rendere conto se quella è la tua strada perché comunque mi sono reso conto che spiegando le cose ci sono tante cose molto interessanti che però fino a quando non l'esperimenti nella pratica lì ti cambia tutto completamente secondo me quindi secondo me questo è l'aspetto più inclusivo che c'è quindi applicare alla pratica quello che ti studia e vedere ai tuoi occhi cosa fa veramente nel finire il laboratorio perché possiamo spiegarlo, possiamo dirlo però fino a quando non provi tutto quello che fai ovviamente cambia grazie qualche altra domanda i periodi di tirocino e quelli di lezione sono separati quando si fa lezione non si fa il tirocino pratico le lezioni possono esserci sia al mattino che al pomeriggio il tirocino di solito segue gli orari dei servizi ospedalieri o delle sedi universitarie e normalmente è di circa massimo otto ore al giorno dalle sette al massimo otto ore al giorno se posso inserire qualcosa per il tirocino abbiamo si diceva appunto sette ore al giorno massimo otto mezz'ora di pausa obbligatoria e dal lunedì al venerdì perché non abbiamo la copertura assicurativa né per il sabato né per la domenica né anche per il notturno perché una delle attività che svolge il tecnico di laboratorio biomedico è quella anche in attività notturne negli ospedali quindi sono in servizio anche di notte però per lo studente mentre fa il tirocino non è permesso né andare il sabato e la domenica e nemmeno di notte proprio per un discorso di copertura assicurativa potrebbe fare un turno di pomeriggio per vedere la differenza tra il lavoro che si svolge in routine e il lavoro che si svolge in urgenza ma è tutto qui questo riguarda soprattutto il laboratorio analisi magari poi invece il laboratorio di anatomia patologica o di microbiologia ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto al laboratorio analisi ma tutti comunque il sabato e la domenica si sta a casa insomma gli studenti non vanno non vanno in tirocinio questo era per completare la richiesta della domanda dello studente diciamo che è un aspetto particolare dell'ateneo di questo corso presso l'ateneo di Verona è che siamo in una realtà come si suol dire di ospedale universitario l'agenda ospedaliera universitaria integrata quindi vede sia l'ospedale tradizionalmente inteso sia l'università dove l'università non è solamente aule e lezioni ma anche laboratori di ricerca che in questo ateneo spaziano in vari ambiti in varie discipline dalla fisiologia all'anatomia alla farmacologia alla patologia generale alla microbiologia quindi l'esperienza di iscriversi in questo corso è un'esperienza a 360 gradi cioè si è immersi in un ambiente estremamente ricco e stimolante dove c'è non solo l'attività ospedaliera sanitaria ma anche l'attività di ricerca quindi di esplorazione scoperta di quelli che possono essere nuove procedure nuovi metodi o anche possibilmente nuovi meccanismi nuovi farmaci nuovi interventi quindi c'è anche il contesto che offre il nostro corso di studi qui a Verona che è particolarmente ricco e stimolante chiede se è obbligatorio sì sia la frequenza alle lezioni che al tirocinio è obbligatoria le lezioni le ore di lezione variano variano dalle giornate possono essersi anche delle giornate dove non ci sono lezioni questo magari al terzo anno più probabile e appunto variano a seconda anche l'anno di corso al terzo solitamente c'è meno carico di lezioni frontali e maggior carico invece di ore di tirocinio sì allora per ciò che riguarda la domanda che riguarda il lavoro vero e proprio come si gestiscono i turni questo varia da ospedale ospedale dipende dalla realtà nella quale uno poi si troverà perché alcuni ospedali della regione Lombardia il personale non fa il turno di notte ma è solo reperibile a differenza invece dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona che io conosco molto bene perché ci ho lavorato per 35 anni il laboratorio analisi fanno i turni quindi c'è una turnazione una presenza in laboratorio di 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno quindi dipende molto dalla realtà in cui uno si troverà se poi va a lavorare in un laboratorio privato magari lavora dal lunedì al sabato e fa un orario giornaliero quindi è molto vario dipende molto dalla struttura dove uno andrà a lavorare certo è che sicuramente dovrà pensare che possono esserci dei turni e quindi fare una turnazione quantomeno su due turni quindi alla mattina dalle 8 alle 3 e il pomeriggio che ne so dalle 14 alle 21 quindi come minimo se poi si lavora appunto su tre turni bisogna mettere in conto anche di pensare a fare a fare le notti dipende molto dalla dalla struttura se un laboratorio grande se piccolo e dal tipo anche esatto di laboratorio dove poi uno andrà a lavorare altre domande qualcuno approfittate di questa opportunità siamo disposti a rispondere anche a domande provocatorie rompo il viaggio dipende domande provocatorie attenzione visto che immagino che chi ci ascolta la maggior parte sono studenti allora qualche volta ci sono le domande Rossi mi dica se sbaglio ma i professori sono severi l'ambiente tra studenti è amichevole perché sono tutti aspetti importanti a creare la qualità dell'ambiente di studio o di lavoro che sicuramente è un aspetto anche importante quando si valuta l'iscrizione a un corso di studi insomma giusto Rossi? assolutamente poi posso rispondere su una domanda ai professori severi proprio che c'è qualcuno che pretende sempre di più di un altro però comunque se tu studi o non studi se tu studi sei preparato anche il professore severo che magari pretende qualcosina di più ma se tu sei preparato insomma non hai questi problemi se non studi e e perché non studi non è perché il professore severo dipende da quello stato posso aggiungere che dalle questionarie annuali che vengono fatti semestrali che vengono fatti per valutare per accogliere la valutazione monitorare e raccogliere la valutazione da parte degli studenti della qualità degli insegnamenti dei docenti l'aspetto che è sempre stato messo in evidenza con i punteggi più alti è la disponibilità da parte dei nostri docenti di venire incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti in termini di chiarimenti e altro tipo di supporto inoltre vorrei aggiungere che come potete vedere lo staffa tutoriale qui presente la dottoressa Tassi Bertolani Romano è uno staffa che dà supporto a tempo pieno non solo nel coordinamento nella pianificazione ma anche in quelle che mi permetto di dire sono le esigenze particolari dei singoli studenti credo che chiedete qual è lo stipendio stipendi non è che siano altissimi per quanto riguarda almeno Verona perché so che in altre regioni sono più alti comunque uno stipendio medio diciamo di una persona che un lavoratore che ha una media antianità si oscilla su 1500 euro dopo magari a fine carriera si arriva su 1650 poi materiale per quanto riguarda la certificazione linguistica se siete in possesso del B2 potete poi farvelo diciamo riconoscere senza dover ripetere l'esame poi per le lezioni online per adesso ci sono le lezioni online di tutte di tutti gli anni diciamo per l'avvenire quando cesserà la pandemia non so dare risposta può darsi che rimanga la possibilità di seguire online come no e per il materiale didattico libri eccetera parte ovviamente per acquistare i libri che sono consigliati dai vari docenti vengono solitamente anche date le diapositive delle lezioni e per quanto riguarda i laboratori professionali perché c'è anche noi organizziamo dei laboratori professionali che sono propedeutici all'inserimento in tirocinio e in questi laboratori gli studenti possono prima sperimentare in sicurezza sotto la guida di tutor le varie tecniche che poi andranno a vedere e ad affrontare meglio durante il tirocinio e durante questi laboratori vengono date anche del materiale didattico che solitamente delle fotocopie che il docente appunto distribuisce agli studenti c'è una domanda che chiede è una professione in cui si lavora di equip assolutamente assolutamente è fondamentale fondamentale equip mi permetto di declinarlo a modo mio ma poi chiedo alle colleghe di dire la loro equip vuol dire essere insieme ad altri colleghi nella fase di apprendimento di apprendistato equip vuol dire essere insieme a colleghi di paro livello man mano che si cresce nella professionalità e poi nel momento in cui si è esperti equip vuol dire anche avere l'aiuto dei giovani in formazione giovani assistenti quindi nei tre livelli di sviluppo professionale ma questo in tutte le professioni che sia l'apprendistato che sia la routine o che sia diciamo una fase di massima esperienza si lavora sempre in equip prima come allievi e poi come maestro non si è mai soli va bene ci avviamo alla chiusura quindi se c'è qualche altra domanda vi chiediamo di inviarla adesso c'è un'unica sessione c'è un unico esame di ammissione che normalmente viene fatto in settembre un'unica possibilità c'è una domanda che chiede se si sanno i punteggi minimi per accedere ci sono dei requisiti minimi soprattutto su materie quali biologia e chimica e fisica e li potete trovare sul nostro sito un'unica un'unica ci sembra di ricordare che entra una persona su tre che ha fatto domanda uno su tre dovrebbe essere il nostro quindi abbastanza buono rispetto a altri corsi come quello ad esempio di fisioterapia allora in procinto di terminare chiedo cortesemente a rossi di riproiettare l'ultima diapositiva con i contatti e la lasciamo diciamo come schermata finale si può ingrandire ecco grazie quindi lasciamo a schermo i contatti della dottoressa tassi bertolania romano sia di mail che di telefono per ulteriori informazioni io incomincio a salutarvi non ho altro da aggiungere sia dal punto di vista diciamo ufficiale formale sia per i commenti diciamo informali e suggerimenti informali che vi ho dato vi ringrazio dell'interesse ovviamente vi invito ad approfondire contattando le colleghe o visitando il sito dell'università e anticipo i saluti da parte mia quindi ringrazio innanzitutto riccardo per il tempo che ci ha dedicato che vi ha dedicato e anche le colleghe grazie ancora e in bocca al lupo a tutto quello che vi aspetta e ci aspetta grazie 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 ricambiamo grazie in bocca al lupo grazie eh sì esatto grazie 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 a tutti.